Da ottobre, le grandi anteprime sono a portata di mano. Riesco colazione e sciolgo le camere. So che avete un problema con gli indiani. Ogni essere umano che salviamo è uno zombie in meno da combattere. Questo lo dovete assolutamente vedere. L'offerta di Sky Prima Fila è ancora più ricca e interattiva con Sky On Demand. A ottobre, tanto di più quando vuoi tu. Grazie a tutti.